Si chiama Mattia, è il primo nato in Abruzzo ed è nato all'Aquila all'ospedale San Salvatore per la gioia di mamma Claudia e Papa Francesco e della sorellina Emma. Mattia è in ottima salute, pesa 2,780 kg. Siamo andati a trovarla in ospedale nel reparto di ostetricia e ginecologia. Mamma Claudia, che è emozionata, stringe tra le braccia il suo Mattia, che fa sentire anche la sua voce. Un augurio per tutto l'Abruzzo, per l'Aquila, per un 2024 pieno di gioia e speranza. È stata una notte dura, emozionantissima e per fortuna è andato tutto molto molto bene. Infatti ringrazio la dottoressa che mi sta vicino e tutte le ostetriche, tutti quanti che mi sono stati vicino e mi hanno supportato in tutto e per tutto. Il bambino sta benissimo, quanto pesa? Il bambino sta bene, Mattia sta bene, pesa 2,8 kg, quindi un bel bimbo che adesso si fa sentire. Grazie, auguri a tutti quanti voi. Grazie.